non ci sarà più salve allora io e Mosini eravamo qua molto rilassati ed è rientrato Lucy the Bull Lucy il Bullo allora vediamo se fate i buoni o se vi menate come ieri ieri sera eravate così vicini e poi vi siete menati però adesso l'atmosfera sembra rilassata eh Lucy fa un bauletto del mio cuore l'atmosfera sembra molto rilassata adesso ma perché vi guardate non vi guardate guarda che fate un cuoricino così vicino ecco Mosè che si gira oh così sì così sì che siete tutti rilassati aspetta Mosè che c'è del pelo qua del pelo di Lucio la mamma dovrebbe pulire in continuazione d'estate allora cari i miei bambini Lucy amore santo Lucy non lo menare il tuo il tuo Mosini che è il tuo amico state qua ecco metti la testa lì e dormi guarda che lui adesso è lì buono cerca di essere buono anche tu ecco lui piace appoggiare la testa nel cuscinino questo qua è tutto sbaccato via vogliamo i vostri commenti secondo voi si rimaneranno di nuovo o no mi sembra tutto tranquillo però Lucy un po ha ragione a menarlo perché Mosini ha pisciato sulla sua bellissima brandina estiva perché Lucio aveva una bellissima brandina ma Mosini gliela tutta pisciolata ecco riusciamo a stare così in armonia la mamma pulito il pavimento è con l'olio essenziale di lavanda è tutto pulito tranne i vostri peli che sono ovunque ecco Mosini che si ribalta si ribalta come Lucio guardate che caprioli che fa Mosini e Lucio dorme e Lucio dorme Mosini vi mettete una pace però non dovete fare le botte ho dovuto prendere l'aspirapolvere ieri sera per raccogliere tutti i vostri peli dai ultimo video oggi ne ho fatti tantissimi perché domenica sono in relax salutiamo gli zie e gli zie diffondete il nostro canale condividete i video scrivete i commenti ciao